Oggi io e Cat andremo a giocare a Octodead moddato in multiplayer. Io muoverò una parte del corpo, Cat l'altra parte del corpo. Già vi lascio immaginare il delirio e la follia di questo video. Non voglio spoilerarvi nulla perché abbiamo provato tante di quelle mappe moddate che voi neanche avete idea. E come sempre se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere. Buona visione! Poggo Doggo su Octodead? Esiste ancora Octodead? Ebbene sì! E oggi lo andrò a giocare in multiplayer con Cat. Io controllerò il braccio destro e la gamba destra e Cat il braccio sinistro e la gamba sinistra. Ragazzi sarà follia totale questo video. E ci sono i livelli moddati. Vi rendete conto? Sono io Cat! Sì sei tu Cat! Iniziamo a distruggere tutto! Sì! Sì! Come potete vedere io controllerò le parti azzurre, Cat le parti rosse. Questo gioco già in single player è totalmente folle. figuratevi in due nei livelli moddati. Let's go! Io non ci ho mai giocato. Eh in realtà neanch'io, l'ho solo visto su YouTube. Ah! Eh sì! Iniziamo benissimo! Guardate quanti livelli moddati! E c'è anche il Deadzilla! Ossia un polipo gigante che deve distruggere la città! Vai Cat! Oh! Che figata! Aspetta! Aspetta! Come si fa? Ho preso una macchina! La lancio! Ho lanciato una macchina! Non lo so Cat! Muovi le gambe! Oddio! Eh sì! Oddio! No! Il palazzo! Aspetta! Ok! Scusate! Scusate amici! No! Ho preso il palazzo! No! L'hai preso tu il palazzo! No! Tu l'hai preso! Aspetta! Lancialo! Aspetta! Come si lancia? Aspetta! Aiuto! No! Aspetta! 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 Piano! Piano! Oh! C'è un robot! Andiamo dal robot! Leva il palazzo! Dove è il robot? Come si lascia il palazzo? Ok! No! No! Scusa! Ciao robot! Come stai? Ciao! Wow! Ok! Il robot non c'è più! Muovi le gambe! Come si muovono le gambe? Scusa! Non lo so! Sto prendo a caso io! Oh! Perfetto! È un attimo! È un problema! Ragazzi! Questo livello è un problema! Siamo un polipo gigante! E dobbiamo spaccare tutta la città! Ok! Oddio! Oh! Oh! Siamo fortissimi! Aspetta! Leva sto palazzo! Ho lanciato un palazzo! Ho lanciato un palazzo! Cat! Cat! Non riesco a camminare! E ho capito! Una banana! C'è una banana gigante! Aspetta! Allora! Ma come si muovono le gambe? Ah! Così si muovono! Banana! Che devo fare? La sto toccando con il piede! E ho capito! Stiamo dando dei calci a una banana! Aspetta Cat! Come si passa le mani? Perché non si muove più? No! Cat! Hai fatto cadere la banana! Non si muove più nulla! E là? Non lo so Cat! Ti giuro! Aspetta! Non funziona! Maledetto polipo! Tutto buggato! Ho capito il problema! Mi si era scollegato il pad! Sono un imbecille! Oh! Ecco la banana! Wow! Che banana! Che bella! Oh! Guarda! Oh yeah! Oh yeah no! Banana! No! Aspetta! Salve la mia! No! Salvala! Salvala! No! 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 Dio! Siamo morti anche noi e non lo so! Aspetta vieni da quest'altra parte esploriamo la città! Muovi le gambe! Non ce la fa! Non ce la fa! Dobbiamo essere coordinati aspetta! È un po' difficile su questo gioco essere coordinati! No! Stiamo andando dalla parte sbagliata! Aspetta! Con calma! Non dobbiamo andare aspetta! Eh dobbiamo andare dietro! Cioè avanti! Non dalla parte del mare! Ho creato un tornado! Il polipo! Che bello! Che bello! No! No! Hai rotto il mio tornado! Ti odio! Calcio! Della potenza! Cosa abbiamo fatto? Non lo so! Siamo dei maestri ballerini di danza! Siamo fortissimi sì però potremmo allontanarci da qui! Sto per impazzire! Basta! Direi di provare un livello leggermente più semplice! O almeno spero! È perché siamo nudi! Non ha più la giacca! Ok allora Kat! Copriamoci prima cosa! Eh sì! Aspetta! Metti questo in testa! Aspetta! Come si mette in testa? Aspetta! Ok! Oddio! Piano! Piano! Oddio! Oddio! Aspetta! Aspetta! Ok! No! Kat! Kat! No! Vabbè non fa niente! Lascialo! Lascialo! Prima che impazzisco! Dobbiamo cercare la pizza congelata! Non dobbiamo farci vedere! Piano! Piano! Salve! Buongiorno! Andiamo alla pizza sul gelata! Sta qua! Non ho sbaglio! E' vero! Pizza! Pizza! Come si apre? Ah no! Aspetta! Vieni! Vieni! Muovi quei piedi! Oh! No 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 no! Stanno sparando delle cose viola! Che schifo! Che schifo! Ok! Qui c'è la pizza! Qui c'è la pizza! Non è pizza questa! È pizza! Non è pizza! No 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 no! Corri! 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 Ma dai! Ma ci hai investito col carrello! Ma guarda te sto infame! Non c'è nessuna pizza congelata! Dove la trovo questa maledetta pizza congelata? Sta qua! Ho sbaglio! È vero! Maledetto polipo! Allora attenzione alla signora! Ok! Allora pizza congelata sta vicino al congelatore! Cat! Il congelatore è a sinistra! Mettiamoci gli occhiali così non ci vedono! Hai ragione! Aspetta! Come si mettono gli occhiali? Che vuole questa? Lascia i miei cereali! No! Cat dobbiamo rubarle i cereali! No! Non ci ha visto! Non ci ha visto! Non ci ha visto! Cioè non so come abbiamo fatto! Gli occhiali! Gli occhiali! A non vederci vai! Metti gli occhiali! Perfetto! Let's go! Allora dobbiamo... No! No! Di qua! Di qua! Di qua! Madonna Cat! Madonna Cat! Devi muovere la gamba! Ma sono in seguito un azzurro! Ho capito! Ma tu sei rosso! Stavi fermo! Ok! Ok! Dobbiamo coordinarci! Guarda come siamo bravi adesso! Guarda! Ok! No! No! Evita la signora! Perfetto! Vai! Soppassa la signora! Sorpassa! 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 Ok salve! Ci scusi! No! Non ci posso credere per prendere la pizza! Eh no! Eh no! Aspetta! Come si fa? Mi sono a salire qua! Eh ok! Aspetta mamma mia! Salve! Ciao amici! Eh sì! Kat però devi salire! Metti le braccia sopra! Come si mette la mano di là! La devi mettere sopra! Sopra! E come si gira! Ecco l'analogico! Gira! Eh lei non ci ha visti! Esatto! Vai! Il piede! Il piede! No! Kat il piede! È la mano e il piede! Madonna mia! Madonna! Sei scarso però! Metti sopra! Piano! Piano! Ok! Adesso la gamba! Metti la gamba sopra! Mettila! Ecco il tasto! Oh! E ci voleva tanto! Ok! Piano! Ok! Perfetto! Passiamo da sotto! Eh sì! È un po' difficile in realtà passare da sotto! Passiamo di qua! E nessuno ha visto niente! Bravo! Bravo! Vai! Vai! Ok! Piano! Piano! Vai! Spingi! Spingi! Let's go! Oh! Oh mio Dio! Oh! No vabbè non ci posso credere! Perfetto! Pizza! Sì! Cos'è successo al polipo? Cos'è? Eh! L'hai visto anche tu? Si era buggato! No! Scappa! Scappa! No no no! No no no! Signora! Signora! Ci deve fare i fatti suoi! Basta! No! Dobbiamo prendere i cereali per Timmy! Ok? No no! Madonna! Ti sbatto il coso in testa! Pessala! Pessala! Prendili! Rubati! Sei! Li rubiamo noi i cereali! Sfigata! E adesso la soda al mango! Ah! Via! Via! Oddio! E dai! Ma perché ci vogliono male? Siamo semplicemente un polipo gigao! Oh! Oh! Via! 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 Al contrario! Via! Cat! Muovi le gambe! Ok ok! Dobbiamo salire su questo palazzo gigante e prendere la soda! Sei pronto? Ok! Facile facile! Ok! Saliamo qui! Aspetta! Ok! Ok! No! No no no! Saliamo! Come si sale? Come facciamo a salire? No 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 no! Come fa? Oh! Piano! Piano! Aspetta! Non sto capendo niente! Posso tirargli un calcio un doppio carpiato? Cat! Devi muovere le gambe! In su! Muovi quelle gambe! Fai con calma! Ok! Facciamo salire una gamba! No no! Aspetta! Non ti girare! Ti spacco! Non ci hai visti! Non ci hai visti! Piano! Piano! Ok! Ok! La gamba! Allora la gamba! Ok! Ok! Aspetta! 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 Alza la gamba! Alza la gamba! Prima che te la spezzo! Piano! Piano! Ok! Adesso dobbiamo aspettare! Aspetta! Credi nel cuore delle carte! Credi nel cuore delle carte! Allora! Dobbiamo apprezzare questa! Sì! Un attimo! E un attimo! E ho capito! Ok! Fuori uno! Leva questo! Prendi la mela! Ok! Questo! Prendi questo! Manca la pizza! Sì! A posto! Prendi il susso maggio! Non ho capito! Abbiamo vinto! Sì! Ma il sushi! Non ho capito dove è andato a finire! Ce l'hanno rubato! Ma cosa è successo a sto tizio? Perché è tutto rotto! Quindi abbiamo vinto! Abbiamo finito il livello! Non ci posso credere! Sì! Ketto! Siamo diventati dei ladri professionisti! Ma dai! Ma perché si è rotto? Il tubo! Oh! Ok! Levalo! Ma che siamo su Five Nights at Freddy's! Comunque dobbiamo raggiungere la caffetteria! Ok! Andiamo da questa parte! Dobbiamo rubare tutti i soldi! Vieni! Vieni! Oh mio Dio! Ok! Allora dai! È tutto facile! Oh mamma mia! Scherzavo! Non credo! Aspetta che prendo i soldi! Ma siamo davvero su Security Breach! E lì c'è il tizio con la torcia! Passa per il negozio dei regali! Ok! Sì! Passiamo da dietro al bancone! Ket! La mia gamba! Ok! Bravo! Passiamo da dietro! Zitto zitto! Senza farti scoprire! Bravo! Bravo! Ma cosa abbiamo in testa? Una colonna? Mamma mia! Ok! Perfetto! Raggiungiamo la caffetteria! Sì! Ma da che parte è la caffetteria? Ehm! Supera i biologi! Che cosa dobbiamo fare? Come superiamo quei tizi? Ah! Six and a half hours later! Vai! 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 Muovi! 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 Vai! Entra qua dentro! Sì! Non ci posso credere! Mamma mia! Vai! Vai! Nella cosa qua dentro! Ma dai! Ma guardate! Come ci si ficca qui dentro! Oh! Ok! Perfetto! Perfetto! Vai! Oh! Oh! Ehm! No! No! Non siamo noi lì dentro! No! Non avete sentito nulla tranquilli! Attiva un allarme! Dobbiamo dare fuoco a qualcosa! I fornelli! Aspetta! Accendi tutti i fornelli! Oh! Oh! Ho dato fuoco a una tazzina! No! Credo di aver preso fuoco io! Aspetta! Sto accendendo tutto! Non sto capendo! Suona l'allarme! Sì! La mia mano! Esci dalla sala ristoro! Sopra! Sopra! Cat! Cat! Sopra! No! 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 Esci! Esci sopra! Sopra! Vai! Guardate! Ragazzi! Siamo incastrati! No! Madonna mia! Questo gioco! Sto per spaccare tutto! Leva! Leva questo maledetto pesce di qui! Vai! Vai! Cat! La gamba verso l'alto! Leva di pesce! Mamma mia! Dai! Dai! Cat! La gamba! Vai! Muovi la gamba verso l'alto! Ok! Usciamo! No! Eh! No! Esci! Esci! Oddio! Oddio! Dai! Dai! Muovi la gamba! Dai! Oh! Oh! Mamma mia! Ma che... Dai! No! Non ci credo! Abbiamo sbagliato bagno! Non è possibile! Non è possibile! Di cosa si può passare! Su! Su! Perfetto! Oh mamma mia! Lascia la carta igienica! Ti prego! Lascia la! Scusa! Lascia la cosa! Ok! E adesso da che parte dobbiamo andare? A questa? Non lo so! Ok! Spero da questa parte! Apri la porta! Sì! Sì! E adesso... Ah! Ho capito! Vai! 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 Ok! No! No! Via 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 via! Nessuno ha visto niente! Cat! Devi muovere! La gamba! Dov'è la caffetteria? Sì! Buonanotte! Eccola! Ma come ci andiamo da quella parte? Ma sei pazzo? No! Cat! Oh mamma mia! Ora mi sono accorto! No no no! Questa roba è impossibile! Ci sono squali! Persone! Tutto distrutto! Io me ne esco! Ok! Non fai niente! No 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 no! Ok! Scendiamo di qua! Bravo! Scendi scendi scendi! Come scendere qua? Perfetto! Perfetto! Vieni a destra! A destra! A destra! Ok! Con calma! La mia gamba! Con calma! No! No no no! Vieni! Vieni! No! No no no! Da questa parte! Da questa parte! Vabbè sì ma non è possibile! Ti spacco una scatola in testa! E niente! Vai 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 vai! Muoviti più veloce! Ok vai! Vai attento a non scivolare! Ok scivoloso! Aiuto! No! No! Vai vai vai! Citto citto! Citto citto! Citto! Muovi la gamba veloce! La gamba! Ragazzi questo livello è impossibile! Al prossimo video! E maledetto Cat e la sua maledetta gamba! Vi odio! Ciao!